Siamo qui con Andrea Quinti, centro capitale della Rocco Saronno, questa sera vincente in gara 1 nella semifinale dei playoff. Andrea, partita complicata all'inizio, siete partiti un po' sordina, poi dal secondo quarto in corpo, però vi siete lasciati andare e avete cominciato a segnare canestra di ripetizione. Bella vittoria! Bella vittoria, siamo stati bravi ad andare avanti, senza pensare al risultato dei nostri tiri, a aver sempre preso buoni tiri, anche se all'inizio non entravano, comunque siamo andati avanti a fare le nostre cose e alla fine abbiamo trovato i nostri canestri, quelli che ci contraddistingono, adesso vogliamo andare avanti e siamo contenti anche del clima, questo palazzetto, finalmente tanta gente e questo ci fa la giusta carica per affrontare la partita e stare lì con la testa, è molto bello. Bene, grazie a lei, bocca alle bocca a Gabriele. Grazie a tutti, grazie.